... Melania Gabbiadini, capitana della GSM Verona e della Nazionale Italiana Femminile, qui alla 13esima edizione di Stella Stellina, un'edizione da record che ha visto partecipare ben 26 formazioni con diverse squadre anche da altre regioni. Melania, un bello spot per il calcio femminile e quello Veneto in particolare? Sì, diciamo che quello Veneto è sempre stata una regione dove fa di queste iniziative molto importanti, quindi i numeri di oggi ne danno ragione, quindi penso che per la crescita di questo calcio servano queste iniziative, sono sempre importanti e sicuramente dovrebbero anche un po' le altre regioni riuscire a fare ciò che sta facendo il Veneto. Paolo Tosetto, responsabile regionale della divisione femminile, qui al termine della manifestazione Stella Stellina, la 13esima edizione che è stata un successo con ben 26 squadre, sono arrivate da tutta Italia, possiamo dire. Paolo, è stata veramente un'edizione riuscitissima. Beh, io direi, guarda, fantastica. Devo ringraziare tutti i comitati da zona del Veneto per l'appoggio, sia a livello di organizzazione e anche a livello proprio, chiamiamola, di supporto morale, perché non è facile trovare, come si può dire, tutti questi collaboratori che ci hanno dato una mano per poter organizzare questo tipo di cose. e ringrazio in particolare il Presidente Ruzza perché è sempre attentissimo, non a parole ma a quei fatti, per dare modo di svolgere questo tipo di manifestazioni che sono fondamentali affinché il calcio femminile poi si diffonda nella maniera giusta e corretta in tutto il territorio. Giuseppe Ruzza, Presidente del Comitato Regionale Veneto Fidici LND, qui alla 13esima edizione di Stella Stellina, ha un grandissimo successo con 26 squadre, molte delle quali da altre regioni. Presidente, direi un vanto, un'edizione da record da ricordare. Sì, siamo felicissimi anche perché le squadre, le società delle altre regioni hanno fatto un sacco di complimenti per questa iniziativa. È un'iniziativa che tenta ad allargarsi sempre di più, evidentemente in merito dell'organizzazione ed evidentemente perché queste ragazzine hanno fame da gioco del calcio e noi dobbiamo assolutamente fare ogni cosa possibile per incentivarla ancora di più. Non ci fermeremo. Non ci fermeremo.